Arrivano le Generation Girl! Barbie è una fotografa! Scanta dai! Michelle è una motella! Che look! Quanta grinta Susie! Va sullo snowboard! Marie dipinge! È una vera artista! Marie fa malcomputer! Che brava! Blaine fa il DJ! Che musica! Grandi amici! Generation Girl! Sei grandi amici con grandi sogni da realizzare! E nei migliori negozi gratis per te! E la rivista Generation Girl!